Tagliare i capelli per una donna è sempre un momento importante della sua vita. Di solito i capelli si tagliano per qualche motivo particolare oppure per dare una rinfrescata alla propria immagine, però bisogna fare i conti con la forma del proprio viso. Ad esempio, un viso rotondo, un viso quadrato, un viso triangolare. Il viso triangolare c'è di due tipi, il triangolare A e il triangolare B, ossia la parte laterale in basso più stretta rispetto alla fronte o viceversa la fronte più stretta rispetto alla mascella. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a questo particolare, la forma del proprio viso. Un viso rotondo dovrà scegliere un tipo di taglio che sia il più scalato possibile, il più arioso possibile, dovrà evitare la frangia, dovrà evitare la riga in mezzo e preferire la riga laterale. Un viso triangolare con il mento stretto dovrà andare a riempire la parte più stretta del proprio viso, mentre invece un viso quadrato dovrà anch'esso rispettare la forma geometrica del proprio viso, quindi preferire un taglio che vada ad allungarlo e ad ovalizzarlo e ad ogni età il suo taglio. Quando si arriva ad avere superato l'età non più giovanissima, non diciamo quanti anni, però direi dai 50 in su, dove siamo ancora delle ragazze, possiamo prendere in considerazione un taglio corto che dà proprio un'idea più frizzante, più energica e quindi più giovanile. Per quanto riguarda il taglio in sé, può essere un taglio bombato dietro, pari davanti, molto alto sul vertice del cuoio capelluto, con un bel ciuffo, oppure con delle ciocche che sparano frizzanti e mesciate con dei colori caldi, aiutano queste forme di capelli ad essere diciamo un po' più briose, più frizzanti. Quindi l'età vede anche una regola fissa che non va assolutamente disattesa. Il capello lungo, ahimè, dobbiamo preferirlo quando si hanno gli anni un po' più verdi, per intenderci i 20 anni, i 30 anni, ma fino ai 40 anni i capelli lunghi si possono portare, si portano anche bene. Ma poi per non incorrere in quel famoso detto, brutto da dirsi, ma dietro liceo e davanti museo, io direi che il capello corto ci garantisce comunque molta molta più signorilità, molta più eleganza, più sobrietà, più stile.